Sono venuti giù, tutti insieme. Noi li abbiamo aspettati. Ci hanno visto da lontano. Da lontano non riuscivano a capire. Giovanchino allora ha alzato la bandiera. Tito ha letto il proclama, il nostro proclama. In dialetto ha cercato di leggerlo per farsi capire. Ci hanno capito. Qualcuno ha cominciato ad applaudire. Anche gli altri ci salutavano, applaudivano. C'era anche una bambina fra loro. Ci ha salutato. Peccato che non ci fossi fuori più. Noi ci siamo messi a correre. Loro si sono messi a correre. Ridevano velendo verso di noi. Ci siamo incontrati. Vabbè abbiamo abbracciato tutti. A tutto, a tutto. Ci siamo abbracciati tutti. e non ci siamo messi a correre. E non ci sono messi a correre. A presto. Non è vero!